Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo la nostra avventura su Vagrant Story dove nella scorsa puntata abbiamo ottenuto i due grimori per finalmente aprire le porte della miniera. Ecco qua adesso devo riabituarmi con la lancia perché sono abbastanza... Il cane ci ha schiettato. Bene. Quindi vi stavo dicendo che nella scorsa puntata abbiamo battuto il boss, elmo di maglia, organizzo oggetti. Eh ma cosa devo fare? Eh ma non posso fare nulla qua. Eh allora aspettate oggetti. Aspetta perché adesso... No, un castone a disassembla non lo posso fare. Quindi devo andargli a mettere in un qualche forziere. Vabbè, non ha mancato con la lancia. Come fa a mancarlo con la lancia? La donna sta lancia ha dei movimenti... Cioè riesco a volte a prenderli e delle volte no. Ecco tipo adesso. Ma vabbè. Ottimo. Con la portata più lunga ovviamente scudo leggero, buono. Ovviamente con la portata più lunga riesco a fare dei danni. A differenza... Diciamo degli avversari che devono... Lentissimo. Lentissimo. Eh vabbè. Veloce. Veloce, veloce. Ok. Addirittura colpo critico. Tanta roba. Ecco, come potete vedere, una delle porte che abbiamo... Una delle porte che abbiamo sbloccato... Cioè una delle porte che abbiamo visto nella scorsa puntata bloccata... Adesso è sbloccata perché appunto abbiamo ottenuto il grimorio. Quindi curiamoci un pochino perché... Esatto. E adesso il primo grimorio che abbiamo ottenuto... Una porta si è aperta. E qual è? Quella di qua dietro? No. Ok, scherzavo. Ah, era la porta quella... Quella in fondo. E infatti... Questa qui era. Questa qui era. Eh vabbè. Eh ma dopo che organizzo oggetti che posso fare? Non li posso buttare. Ah, ecco. Getta. Sì. Eh, e questi non mi interessano. Anche questo è down. Perfetto. Ah, ok. Quindi si doveva premere due volte. Siamo arrivati ad un altro incrocio. Aia. Brutta sta cosa. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Allora, io direi di andare prima a sinistra. Come sempre. Qui la porta è bloccata. Ah, tra l'altro questo è un... Un mimic. Quindi va bene. Troppo veloce. Troppo lento. Morto il mimic. Bene. Conflitto paralisi. E veleno. Fatto fuori. E la porta qua però purtroppo è chiusa. Cosa c'è scritto? Con la chiave d'argento. Ok, quindi dobbiamo trovare questa chiave d'argento. Allora, andiamo fuori. Andiamo questa volta... Verso... Verso l'insù. Ecco, qui c'è qualcosa che non mi piace. Ho un brutto presentimento. Ecco. Cosa c'è? Ah. Mi ricordo l'altro boss. Il guerriero... Quello di fuoco. Allora, innanzitutto utilizziamo... I nifughe. Così siamo... Ok. Siamo resistenti al fuoco. Poi... Dopodiché, mago, aumentiamo il nostro equipaggiamento. E ancora una volta utilizziamo... Il bulbo curativo. Visto che lui adesso attaccherà. Esatto. Eh, mi ha fatto parecchio danno, però... Direi che... Sarebbe stato peggio. Allora... Equipaggiamo... Equipaggiamo... La... Spada corta... Ed equipaggiamo... Scudo romano. Che se non sbaglio aveva... Aveva la gemma... La gemma di salamandra. Modifichiamo. Mettiamo le gemme sull'arma. Su spada corta. Adesso ho Braveheart per il momento. Ma adesso... Invece metto l'affinità con l'acqua. Scudo invece... Ecco, scudo romano... Aveva la White Queen. Quindi lo togliamo... E mettiamo il rubino di salamandra. Ok. Perfetto. Allora, curiamoci. Aumentiamo l'equipaggiamento. Ok. Adesso sei nostro. Lento. Vabbè. Eh, però danni non gliene faccio lo stesso. E nonostante tutto, ancora... Cioè, dopo che avevo migliorato l'equipaggiamento... Ho messo tutto, l'acqua... Ha fatto... Assurdo. Eh, non gliel'ho tolto niente, praticamente. Poi è velocissimo ad attaccare. Ricarica 100 emeppi. Ecco, stiamo iniziando... Stiamo iniziando... Stiamo iniziando... A fare danno. Altro fireball. Bene, respingiamo... Vediamo al mittente i danni, che ovviamente sono zero. Recuperiamo 100 HP. Poi... Facciamo resistenza al fuoco. Questo che mi è finito. Ah, quindi io posso fare equipaggiamento su... Ho resistenza al fuoco. Ah, ecco perché. Diminuiamo il risk. Ok, quindi più di due attacchi non posso fare. Ma perché? Ok, ma perché? Ok, quindi... Ok, ma perché. è velocissimo oh sconfitto e anche il guardiano del fuoco ci saluta bene forse avrei dovuto sconfiggerlo più tardi però alla fine anche averlo sconfitto adesso ci sta classe risk breaker ancora gladiator di forza c'è soltanto un bonus e lo becchiamo foro forza più uno ottimo grimorio flame per ottenere flame elisir delle regine che accresce e gli mp che ovviamente mi fanno sempre comodo abilità di difesa ecco questo mi sarebbe stato molto utile fireproof reflect damage ecco questo questo è perfetto così possiamo riflettere i danni magici quindi non solo fisici ma anche magici è ovviamente questo lo voglio fare subito abilità di difesa voglio mettere reflect damage ok reflect magic qui impact guard ok i danni fisici ricevuti e windbreaker lo mettiamo sul cerchio perché penso che probabilmente il prossimo avversario potrebbe essere un altro avversario elementale allora abbiamo aumentato la resistenza al fuoco oggetti invece devo utilizzare poi l'elisir delle regine così aumentano i miei hp quindi bonus aggiuntivo sta sto tasto che mi va in conflitto ancora nonostante tutto va bene possiamo andare avanti rimettiamoci la lancia visto che così aumentiamo praticamente è vabbè abbiamo praticamente quasi il massimo dei pp aculeo in realtà non mi interessa utilizzarlo vabbè la lancia abbiamo abbiamo già fatto tutto quindi va bene posso continuare ad utilizzarlo modifichiamolo ecco rimettiamo le gemme nelle armi quindi qua rimettiamo ok brave heart ottimo e incastona le gemme sugli scudi scudo romano il rubino lo possiamo togliere ecco mettiamo questo che è praticamente un aspetto sbagliato benissimo così adesso abbiamo la possibilità di evitare torpore in maniera automatica del 30% qui mi sa che però ah sì qua dovevo utilizzare la magia quella per bloccare ecco ecco benissimo abbiamo preso la magia questo lo devo fare perché adesso devo fare questo esatto e con la diciamo e con appunto la la piattaforma in movimento non sarebbe stato possibile mentre invece qua devo eliminare le scatole e spingere questa qui per poter salire ok qui diciamo tutto nella norma quello è lo sciamano che cura a me non me ne frega nulla perché tanto bello colpo critico ci sta sto stone cloud ho provato a rimandare il colpo indietro ma è inutile ehm cura veleno ecco cura paralisi no io voglio attaccare l'altro eh sono bene o male identici bene per il momento lo possiamo anche lasciare stare eh non avevo letto che la possibilità di colpirlo era più debole ok anche questo ho messo paralisi e veleno no degenerate maledetto ehm ehm non Diciamo che il veleno È molto comodo in questi casi Questi sono i piccoli goblin Un po' resistenti Che però Lo so, sembra un sacrilegio Sprecare un oggetto del genere Qui, però vi posso assicurare Poison mist Ok, questo braccio è ferito Per cui approfittiamone Ma come? Io ho messo paralisi E mi attacca lo stesso No E che la paralisi deve essere Inflitta Praticamente prima Del punto esclamativo Vedete? Perché se loro hanno già Il punto esclamativo Ecco Adesso ha la paralisi E sono a posto Io ovviamente Ho il poison Che Tra l'altro sta forza down Non capisco fino a quanto duri Perché Cioè è pazzesco Cioè è pazzesco Mettiamo l'equipaggiamento Almeno Ecco Almeno Riesco a concludere qualcosa Con l'equipaggiamento Migliorato Dannato È sicuro lo stesso È sicuro Sempre è finita Restiamo qua Sì Restiamo qua per sempre Tra l'altro Il mio rischio Sta aumentando In maniera vertiginosa No Non ci credo Oh La forza down È finita Finalmente No Mi ha rimesso Forza down Adesso sono con il rischio 100 38% È un po' troppo C'è una boss fight Praticamente Sto facendo Un po' troppo Oh Finalmente Ce l'abbiamo fatto Adatto Sono ancora sotto Status poison Quindi Legiamolo Diciamo che la rottura Di palle Più estrema È stata la forza down La forza down Mi ha letteralmente Tagliato le gambe Più Ora c'è del terremoto Aperta la porta Con il sigillo Oh La forza down Finalmente è finita Ma Ma Mancato Cioè così Di faccia a faccia è mancato Come si fa? Oddio un altro boss Dai ma lasciatemi un po' di pace Bene Almeno questo Beh non è fortissimo comunque Vabbè sì che gli ho messo anche La forza down Però C'è Col 70% di poterlo colpire E non lo colpisce Sei serio? E' un po' di più Non ci credo, mancato Cioè con l'80% l'ha mancato Eh, però devo curarmi perché qua finisce male Cioè con l'80% l'ha mancato No, vabbè, io non ci credo però Cioè con il 60% di possibilità di curarlo, di prenderlo Non lo colpisce, fa mancato dai Un po' ridicola la cosa Non l'ho colpito con l'80% What the fuck Non lo colpito con l'80% Non lo colpito con l'80% Oh, crepa E che palle C'è due boss in questa puntata Se non erro Altro bonus in forza Ottimo Burbo curativo Aumenta la forza E il Grimario Rampart Per fare Terra Guard Ottimo Allora, utilizziamo subito Ecco, per aumentare la forza Uh, forza più due Utilizziamo anche, no Un po' di Di heal Per curarci Bellissimo Continuiamo L'esplorazione della mappa Altro flashback Un po' di Grazie a tutti. 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 Ok, andiamo, non mi interessa. Mi hanno fatto perdere mezz'ora prima. Adesso com'era quella per fermarlo? Ecco, ecco, mago. No! No! Giustamente poco danno, quindi poco reflect. Bastano due colpi per questi cani alla fine. Ok. E qui ci ritorniamo praticamente all'incrocio, dove però devo esplorare l'altra zona. Vabbè, basta. Vabbè, basta, non li combatto questi qua. Mi stanno sulle scatole. Ah, no, aspetta, no, aspetta, ma qua... Nooo, forza down, no! No! Ah, vabbè. Dai, facciamo quest'ultima parte. Dai, facciamo quest'ultima parte, anche perché la puntata scorsa è venuta leggermente più... Leggermente più corta, quindi... Facciamo finta che questa duri un po' di più. Ascia da guerra, buona. Armatura a bande di ferro addirittura. Organizzo oggetti, subito, immediatamente. Eh, la bandana la buttiamo. Che tanto non mi serve. Sì. E mi prendo l'armatura a bande. Oh, torpore. C'è un forziere, tra l'altro, quindi... Qui non ci eravamo andati. Ok. Ok, ok. 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 Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Giustamente Ottimo Ho fatto una bella combo Solo che però adesso Come abilità di chain Io preferisco A posto della paralisi Ecco Mettere crimson pain In modo tale da aumentare In modo da aumentare i danni Che riusciamo ad infliggere Ok Noi subiamo qualcosina però Avete visto siamo riusciti A fare subito danno Eh sono ancora avvelenato Quindi Esploriamo Cioè esploriamo Cioè esploriamo Apriamo questo forziere Dopodichè Stacchiamo Ah ok Vincolato da magia Per cui cos'era Mago Se non sbaglio Ok Unlock Prendiamo questo forziere Vediamo un po' Che cosa troviamo E poi successivamente Stacchiamo la puntata Allora Manica a maglia Mana breaker Accresce la possibilità Di evitare Accresce la possibilità Di evitare Attacchi magici Del 20% Elisir Affinità Accresce l'affinità Dell'arma All'acqua Ok Anello intriso Un ospito Del fuoco Allora Organizzo oggetti Gettiamo i sandali E gettiamo Anche La fasciatura Sistemiamo Il nostro Equipaggiamento Con la Manica a maglia La manica Ad anelli Che vabbè Mi va bene così Perché La manica Ad anelli 105 In ankles Mi farebbero 106 Però questa è molto Più bilanciata Anzi no In ankles Sono più forti Poi Elmo di maglia Lo possiamo tenere La maglia Ad anelli Abbiamo 913 913 Meno 3 Mettiamo L'armatura A bande E i gambali Ad anelli Con No vabbè Meglio i gambali Ad anelli Crocifisso Invece qua abbiamo L'anello di salamandra Che ci potenzia Un bel po' Benissimo Allora Io direi che Per questa puntata Possa essere tutto Noi ci vediamo Nella prossima Dove Ritorneremo Dove siamo Dove ci siamo visti L'ultima volta E praticamente Andremo ancora avanti Nella mappa Quindi Per il momento è tutto Io vi ringrazio Per essere stati con me E ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima